Ma chi è? Che è questa cosa nuova? È una novità. Come tale andrebbe accolta. Bello. Ma non è basalo. Eh? Basa. Deve basare. Deve basare. Ecco così. Ma chi mi sape che hanno fuo culo? Palo Bonolis. Ha detto baso? Bacialo. Bacialo. Perché? Ma chi è il pentito? Bravo, bravo. Fermi, fermi, fermi. Per favore. Che mo' sono imbarazzo io? Avete detto c'erano delle novità, però pensavo fossero delle cose. Che deve fare lei? Dottor Bonolis sono venuto questa sera qua perché mi devo liberare di un peso che tengo dentro la panza. E beh, che la fa qua? Scusi, ma che schifo. Ma mi perdoni, ma ci sono luoghi adibiti alla circostanza. Viene qua e mi si libera del peso davanti a tutti. Mi perdoni. Lei è uno sozzone. Se parla di nomi, devo fare i nomi. Mi devo liberare. La coscienza. La coscienza. Ma la verità qual è? Chi sono i pericolpevoli? Dottore Bonolis? Chi sono? Come chi sono? Chi sono? Sono i qua 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 qua, i chi chi ricchi, i micio micio, i bao bao, i guau guau, i gri gri, i titti. Allora, basta che è la vecchia fattoria. Chiedo scusa, otto buono. Chiedo scusa, faccucuba, o bao, mi perdoni. Mi perdoni lei, non volevo. No, no, io capisco, lei è uomo d'onore, come tale, quando sbaglia capisce. Chi sarebbe i responsabili di questo schifo di mondo? Lei vuole sapere chi sono i responsabili di tutta il ciamma e maglia. E che me le dice lei. E lei che ne sa, scusi. Dottor Bonolis, io sono ammanecato forte in cima alla cupola, lo sanno tutti, io so tutto. E però non so se questa è la sede adatta per... Se lei mi permette. È tipo forum. Ha capito, tipo forum, questo è un pentito, mi viene qua e mi dice... Lei si prende la responsabilità. Ma 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 proprio io. Assuma lei è la responsabilità, posso fare il nome. Ma sempre a me mi tocca. Le faccio. Faccia i nomi, chi sono? Lo posso dire a tutti gli italiani. Lo dico. Tina Cipollare e Gianni Speitti. Tina Cipollare. Cioè, dietro allo sconquasso del pianeta c'è Tina Cipollare e Gianni Speitti. Sembravano tante brave persone. Sembravano tante brave persone. Hai capito che roba? Vabbè, comunque, dica. Tina Cipollare. Eh, Tina Cipollare e Gianni Speitti. E a proposito di Gianni Speitti, posso fare la domanda concorrente che è palemedano come mia? Sì, vada, vada, vada. Gianni Speitti è stato sposato. Con chi? Con l'Ori del Santo. Con Paola Barale o con Sabrina Salerno. Sabrina Salerno. Ma che Sabrina Salerno? Cia la miseria. Ma che, ha sbagliato lui, ma meno a me. Ma no, era Paola Barale, no. Era Paola Barale. Eh, niente, ha sbagliato. Mi dispiace, mi dispiace. Comunque, dottore Bono, è stato adesso che mi sono liberato, me ne posso pure andare. Certo, certo. Però posso ricordare al pubblico di tenere a mente questi nomi. Tina Cipollare e soprattutto Gianni Speitti. Mi raccomando, non busco il dono. E poi ci vediamo dopo. Ma nonna, che inquietudine. Però non la sapevo, non ci pensava a sta cosa che dietro a tutto, soprattutto a Ebola ci fosse Gianni Sperti. Sta qua dietro, eh. Ma non vada a parte, siamo attenti. Vada via lei, ma le pare che mi dice Sabrina Salerno. Piacere a voi stesso. Eh, arrivederla, arrivederla. Avanti un altro.